A Rezzo per tre giorni capitale dell'atletica leggera con i campionati italiani master che si svolgeranno l'8 e il 9 il 10 luglio al campo di atletica dedicato ad Enzo Tenti. Dire master vuol dire atleti che sono nati dai 35 anni in su, quindi avremo anche il centenario Giuseppe Ottaviani che verrà ad Arezzo per tentare di continuare a fare i record mondiali. Dire master vuol dire soprattutto passione per l'atletica leggera, vuol dire soprattutto amicizia e anche proprio perché siamo ad Arezzo, turismo. Attesi in città numeri record per quanto riguarda le presenze, i partecipanti saranno infatti circa 2000 e richiameranno ad Arezzo un indotto pari a circa 4000 persone tra amici e famiglie. Tanti atleti ed appassionati dunque ma anche ospiti d'eccezione. Avremo come testimone, però non gareggeranno, Sara Simeoni e Gabriella Dora, però loro vengono anche per trovare gli amici. Ma vorrei fare un nome, è una retina, si chiama Sandra Dini, ha vestito per tante, tante, più di 20 volte la maglia azzurra, è stata affuscata perché era compagna di Sara Simeoni, quindi noi ci ricordiamo a tutti lei. È una retina, viene volentieri a gareggiare. Presente insieme alla FIDAL anche la Polisportiva Policiano che si è occupata dell'organizzazione. Questo è un impegno veramente enorme che la Polisportiva ha fatto una scommessa, speriamo di poterla diciamo poi vincere questa scommessa perché ha messo in campo diciamo anche un'iniziativa così delicatamente importante con presenze anche di molti volontari. Il Comitato Provinciale FIDAL si è adeguato, le altre società retine si adoperano insieme a noi per cercare di realizzare questo grande impegno perché sarà veramente un importante diciamo banco di prova per Arezzo. Grazie a tutti.